Buongiorno a tutti, oggi è il venerdì 17 luglio e parliamo di analisi ciclica voluta su due mercati, su DAX e Fuzzimib. Guardando i future, che sono leggermente positivi, possiamo dirci che abbiamo fatto ottime scelte nei giorni precedenti e che è tutto ancora in ballo, nel senso che, ritornando al grafico del Fuzzimib, da qui in poi, se avesse dovuto esserci un raccordo, per ora non sta confermando questa analisi, come vi dicevo ieri. È possibile, invece, che da questo minimo sia partito un secondo t più 3 dopo un primo t più 3 a tre tempi. Anche perché per la ciclica voluta la condizione c'è di chiusura, ovvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni. Stessa identica cosa per quanto riguarda il DAX. Carichiamoci il grafico. Eccolo qua. Stessa identica cosa qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, già basta. 7, 8, 9, 10, quasi 10. Qui, tra l'altro, minimo. 11, 5, 7, 5. 11, 5, no. Ok, qui non c'è. Ma tutta questa parte qua, per la ciclica voluta, significa chiusura di un t più 3. Per cui, oggi avremo una giornata interlocutoria, in cui vedremo determinate cose. Innanzitutto, ricordiamoci che questo massimo 12.913 è già stato superato. Per cui qui, succede che se la centratura è corretta, siamo a questo punto. Seconda cosa, a questo punto, ragionando sul sottociclo T più 2, mensile inverso, 1, 2, 3, il quarto proverà a spingere eventualmente ancora più su, se vorrà fare un 4 tempi. Se vuole fare un 3 tempi, invece, finalmente, inizieranno ad avere una discesa. Ma oggi non è tanto una giornata per andare a fare scommesse o altro, per il fatto che oggi ci sono delle scadenze tecniche, per cui vedrete delle cose particolari, o movimenti strani, o una piattezza ancora peggiore degli scorsi giorni. Per cui, essendo anche venerdì, ricordandovi che c'è una regola per il nostro venerdì, ecco, ricordatevi che statisticamente sarà molto più impegnativa come giornata e rischierete di perdere più soldi di quelli che guadagnate, soprattutto se siete alle prime armi. Se invece non lo siete, ricordatevi solo che prendete dei rischi in più oggi. Tornando all'analisi specifica su DAX, per quanto riguarda la parte del controllo dell'inverso, se apriremo a 924, ok, 924, circa qua, andremo a superare ancora i massimi già fatti e continueremo ad andare in chiusura di questo ciclo T-3 inverso. non sarà ancora chiuso, anche perché è arrivato a 38 bar e come sapete può arrivare fino a 44 e quindi spazio ne ha temporale ancora per andare avanti. Per quanto riguarda, e già questo ci dirà molte cose, perché se dovessimo andare sopra questo massimo, cosa possibilissima, sopra i 12.999, come vi dicevo, guardate che qui su Fuzzimib ci siamo già andati sopra il massimo, abbiamo già aggiornato ieri i massimi, e a quel punto significherà che da qua non sta ancora partendo nessuna nuova struttura, ma semplicemente andiamo a chiudere, andremo a chiudere il nono T-3 inverso. E quindi abbiamo fatto un'ottima operazione di short ieri e abbiamo fatto bene a non andare a prenderci altri rischi rimanendo in overnight. anche perché continuiamo ad essere in Golden Cross e oltretutto con questa media mobile che ci ha fatto da cuscino e ci ha permesso per ora di rimbalzare. non ci sono tanti segnali di un'attenuazione, di un rialzo. Qui abbiamo avuto una bella finta che abbiamo gestito bene inserendo un secondo chip long dopo che ne avevamo inserito un primo qua e ci eravamo trovati, caspita, sotto la media mobile a 200 con un bel rischio di discesa, ma dato che abbiamo gestito bene il tempo ciclico poi ci siamo ritrovati avendolo sui massimi qua. Per cui anche in questo caso, esattamente come negli altri, facciamo molta attenzione alla giornata di oggi. Ricordiamoci che mediamente un T settimanale che sia inverso o meno può durare al massimo 11 giorni, quindi ricordiamoci che si può ancora salire teoricamente oltre il nono T-3 inverso e soltanto in violazione di determinati swing con determinati volumi potremmo effettivamente valutare l'inizio della chiusura del T settimanale perché qui abbiamo avuto probabilmente la chiusura del primo T-1 a meno che il quinto T-3 non ci faccia altre sorprese. Poi vedremo, certo, l'essere allineati, molto allineati sui mercati e riallinearsi in fase in cui si è disallineati mi porta a pensare che probabilmente effettivamente andremo sopra questo massimo. C'è la possibilità molto, molto forte che si vada sopra al massimo 12.999. Vediamo. Dopo la creatura potremo fare tante considerazioni. L'altra considerazione che mi sento di fare è che ricordate che anche il quinto T-3 a un certo punto vorrà chiudere, ma è arrivato solamente a 25 barre, per cui ha molto più spazio rispetto all'inverso che è arrivato invece appunto a 37. Qui vediamolo, 37. Esatto. Per quanto riguarda il Fuzzimib, qui abbiamo invece già chiuso il nono T-3 inverso, già potenzialmente chiuso perché se avevo un'apertura ancora superiore, no, vedete che anche qui abbiamo spazio, siamo a 33 barre sul massimo 44, per cui c'è spazio per ancora salire, e poi ci potrà essere la discesa per la partenza di un altro inverso che ci porterà di nuovo al ridosso della media mobile a 50 periodi. Anche in questo caso abbiamo avuto qui la chiusura ancora più chiara nel primo T-1 e qui, finché avranno voglia di spingere, possono spingere d'inverso fino a che si salirà d'inverso, quindi fino all'undicesimo T-3 inverso. Successivamente andremo anche in chiusura, in questo caso, del T. D'accordo? Altre cose in particolare non ne ho da dire. Vi ringrazio per il vostro tempo e per l'investimento in voi stessi che state facendo e vi auguro una splendida giornata.